Buongiorno Leandro Maggi da Rovigo in diretta, abbiamo preso il volo, è dell'assessore di Porto Viro Michele Capanna, assessore allo sport ed è un'occasione ghiotta per fargli un po' di domande. Buongiorno assessore, come sta? Buongiorno Leandro, tutto bene, grazie. Allora, lei è assessore allo sport, dobbiamo parlare di sport? Mi sembra evidente. Allora, tra le tante cose, innanzitutto sono due mesi più o meno che si è insediato la giunta di Valeria Mantovan, 12 giugno, oggi siamo al 24 di agosto, due mesi impegnativi perché poi tante cose che avevate promesso siete riusciti anche già a svilupparle. Come li ha vissuti questi due mesi? Beh, li ho vissuti con entusiasmo e determinazione perché c'è un clima di serenità tra noi consiglieri, assessori e il sindaco e c'è un coinvolgimento di tutti gli assessori, di tutti i consiglieri di maggioranza da parte del sindaco, quindi il clima è assolutamente positivo. Io tra l'altro ho fatto un servizio pochi giorni fa chiedendo alla gente due mesi di sindaco. La cosa che hanno tutti rilevato è che innanzitutto c'è ancora questa luna di miele normale, cioè dopo due mesi la gente vi sta aspettando al barco, però tutti hanno notato la vostra presenza, non solo del sindaco ma anche di tutti voi assessori, eccetera. È nel vostro DNA o è un gioco di squadra che vi siete imposti? Sicuramente è nel DNA mio e di tanti miei colleghi perché crediamo che sia molto importante che gli amministratori siano presenti tra la gente, hanno il dovere di essere presenti tra la gente, non solo per ascoltare le problematiche, le istanze, le richieste, ma anche per dimostrare che l'amministrazione è presente ed è dalla parte del cittadino. Arrivando al suo assessorato, un assessorato che poi aveva fatto tante promesse, prima la piscina, com'è la situazione della piscina? Noi ci siamo spesi molto in campagna elettorale per la piscina, ci siamo impegnati ad aprirla per ottobre e manterremo la promessa. Già i gestori hanno aperto le preiscrizioni e stanno iniziando a lavorare, ad effettuare i lavori di manutenzione e di pulizia per creare un ambiente favorevole e ovviamente accogliente. In teoria, anzi, in pratica riuscirete ad aprirla la prima settimana di ottobre? Dunque la data esatta in questo momento onestamente non sono in grado di dirla, però entro il mese di ottobre noi contiamo di aprirla e di ridare alla cittadinanza un servizio molto importante. Penso ai bambini, penso agli anziani, penso ai disabili, penso a tutte le persone che desiderano fare sport con un'attività che è il nuoto che è veramente molto ma molto salutare. Lei è un cardiologo, dottore, quindi su queste cose ci crede molto. Un altro punto fermo della vostra campagna elettorale è la cittadinanza dello sport da una parte e anche l'ampliamento della tribuna del palazzetto anche per permettere il campionato A2 per il volley. Come siete messi in questo campo? Stiamo per iniziare i lavori di ampliamento della tribuna per arrivare a mille posti che è la condizione necessaria per poter giocare in serie A2, condizione richiesta dalla Lega Nazionale Pallavolo. L'anno scorso la Lega aveva concesso una proroga di un anno, ormai non la concede più, dobbiamo per forza fare i lavori di ampliamento della tribuna. Poi per quanto riguarda la cittadella dello sport il nostro sogno, il nostro progetto che realizzeremo è quello di implementarla e di completarla. Innanzitutto associando alla piscina e al palazzetto dello sport il completamento dello stadio di calcio che purtroppo da anni versa in quelle condizioni non è stato completato. Noi abbiamo intenzione di ricorrere ad un finanziamento con il credito sportivo che è un istituto che finanzia con molti interessi molto agevolati l'impiantistica sportiva e completare lo stadio di calcio. Poi a questo associare anche nello spazio dietro la piscina, creare un campo da paddle, una pista di pattinaggio, il canottaggio. Però ci diceva che purtroppo su questi progetti non riuscirete a fare la pista di, che è una cosa che gli dispiace molto, la pista di atletica. Sì, sì. Pensavamo a una pista di atletica che manca a Porto Viro. Purtroppo le dimensioni dello spazio non consentono di fare una pista di atletica. Ma probabilmente avremo un campo per il tiro con l'arco perché siamo stati recentemente contattati da un'associazione sportiva di arcieri che avrebbero l'intenzione di iniziare la loro attività nel comune di Porto Viro. Ecco, una domanda. Visto che la piscina, la cittadella dello sport, potrebbe essere, anzi sarà usufruita anche da tutti gli altri comuni, c'è una collaborazione tra comuni o vi hanno lasciati un po' soli? Diciamo che per il momento non c'è collaborazione, però non per colpa degli altri comuni, è perché noi non gliel'abbiamo chiesta. Ma sarebbe un'idea quella di chiedere un rapporto proficuo di collaborazione anche con le altre amministrazioni comunali? Ecco, questo qua la gettiamo come idea. Tra l'altro avete un sacco di atleti che sono stati campioni del mondo. Mi viene in mente Ermanno per quanto riguarda il braccio di ferro, i ragazzi del judo. Abbiamo dei ragazzi... Il tiro a piattello. E' un campione anche di golf, quindi Porto Viro è una città abbastanza intensa da questo punto di vista. Abbiamo molti eccellenze sportive, abbiamo anche un campione di pattinaggio che è Niccolò Gregoldo, abbiamo un importante pugile che è Andrea Roncon, che ha combattuto per due volte per il titolo italiano dei pesi medi, quindi è una città di eccellenze sportive. Noi crediamo molto nella necessità di promuovere lo sport e per questo motivo stiamo organizzando assieme, sto organizzando assieme all'assessore Alessia Tessarini che è assessore all'associazionismo, il primo festival dello sport che chiamiamo Sport Expo per sabato 17 settembre di pomeriggio in Piazza della Repubblica, in cui ogni associazione sportiva avrà uno spazio per illustrare i suoi progetti, le sue attività al pubblico, magari raccogliere anche delle adelesioni. Quindi è una vetrina in cui i cittadini potranno conoscere quella che è l'offerta sportiva del nostro comune. Aspetta, due mesi intensi, due mesi, l'abbiamo detto prima, c'è una sorta di luna di miele, però se magari ci vediamo tra 5-6 mesi vediamo se la gente è contenta di tutte queste offerte, tutte queste promesse che state mantenendo. Complimenti. Grazie, faremo il consuntivo e contiamo, speriamo di aver soddisfatto i nostri cittadini perché questo è il nostro compito. Noi ci saremo a controllare, quindi è il vostro ruolo. Grazie dottore, grazie all'assessore allo sport Michele Campanna di Porto Viro.